Paola e Chiara con furore e con grande furore vi diamo la notizia che la metropolitana M4 arriva in periferia, così titola la Repubblica Milano perché via ai test per l'apertura delle ultime stazioni e oltretutto da subito quello invece, orario allungato alla sera. L'articolo di Repubblica vi spiega tutto quello che c'è da sapere su come verrà allungata la linea M4, da quando e come, ma anche il Corriere della Sera Milano non è da meno ovviamente, il Corriere della Sera Milano titola Milano, la linea M4 chiusa per 30 giorni non consecutivi tra marzo e luglio, ma dal 19 febbraio allungherà l'orario notturno. Allora, il titolo del Corriere è un po' forbiante, perché cosa vuol dire? Chiusa per 30 giorni, quindi dicono per un mese, non consecutivi, ah ok, tra marzo e luglio, cioè ci saranno 30 giorni di chiusure tra marzo e luglio per fare i test su tutta la linea, quindi vabbè non è che saranno dei giorni, ogni tanto viene chiuso, cioè 30 giorni a marzo e luglio, non è che poi ci sta ovviamente, e oltretutto orario allungato fin da subito al via. Quindi i test per il completamento dell'opera e in vista dell'apertura in autunno delle ultime 13 fermate da linea blu, viene anche allungato fin da subito, da lunedì questo, l'orario notturno, quindi chiusure e viaggi fino a mezzanotte. Questo è quello che dovrà esserci. Le chiusure come verranno fatte? Appunto, quello che dicevo, 30 giorni sembrano tantissimi, poi scrivi tra parentesi non consecutivi, allora uno già diceva, aspetta, spiegami bene, funzionerà così. Per creare il minor disagio, leggo da Repubblica, per creare il minor disagio possibile, le giornate di chiusura saranno spalmate su diversi mesi. Si parte a marzo con tre giorni, il lotto, 9 e 10, il lotto tra parentesi non c'è lo sciopero, ogni anno ormai fanno lo sciopero, l'8 marzo. Poi ad aprile, dal 4 al 10, quindi dal 4 al 10 aprile, lei sarà da subito la M4. Sono previsti i giorni di chiusura anche a maggio, giugno e luglio, per un totale, come abbiamo detto prima, di 30 giorni consecutivi, cioè non consecutivi, quindi 30 giorni all'arco di questi mesi. Dopo i primi test ci sarà poi la fase di pre-esercizio, che sarà nei mesi successivi a luglio, ma che non necessita della chiusura totale della linea. L'amministratore Amerigo Del Buono, che è il direttore dell'Operation di ATM, ha detto che siamo nei tempi per la messa in esercizio dell'intera linea nella stagione autunnale. Insomma, interessante, eh? Il deposito dei treni, che adesso si trova all'Inate, sarà spostato a San Cristoforo, dove ci sarà anche una sala operativa. Quindi, in quelli di San Cristoforo, che poi anche lì, lo sappiamo che non è San Cristoforo, ragazzi, è Bucinasco. Smettiamola di dare nomi a cose sbagliate. Quel posto lì non è San Cristoforo, è Bucinasco. Se mai Barona, possiamo guardare che è attaccato al retro della Barona, ma non è San Cristoforo. Ok? Smettiamola. Anzi, chiamiamola con i nomi che suoi. È Bucinasco. E dategli sta diavolo di fermata della metro anche agli amici di Bucinasco, che ci serve, gli serve, ci serve a tutti quanti. Si allunga la linea, si porta verso il fuori. Tra parentesi, io voglio capire, l'M4 ha un capolinea molto interessante, che si attesta, come si dice in questi casi, con la linea ferroviaria. Ma non c'è un parcheggio per le auto lì. Cioè, se uno arriva in auto, non prende l'M4. A meno che non si metta a congestionare tutta la zona di San Cristoforo, sfermata nell'attreno San Cristoforo, il finale di Via Ingani, l'Orenteggio, insomma. Come sempre, anzi, a proposito di congestione, andiamo a vedere com'è il traffico. Luce verde? The Colors, un ragazzo, una ragazza, non è una canzone a caso, o meglio, l'ufficio programmazione l'ha messa e noi allora abbiamo trovato una notizia interessante da collegare a questa canzone. Perché? Cosa è successo? Leggiamo da Repubblica Milano. Angelina Mango, San Giovanni e i The Colors, gli studenti del classico Tito Livio, traducono in latino i test delle canzoni del Festival di Sanremo. Eh sì, il professore ha detto che è un esercizio che richiede competenze importanti ed è un modo per imparare, così si aiutano i ragazzi ad amare le lingue antiche. Beh, lo sappiamo quanti di noi, quando hanno dovuto scegliere che scuola fare dopo le medie, quando mi hanno detto, ok, dove andiamo? No, ma lì c'è il latino, lì c'è il greco. No, aspetta, fammi fare lo scientifico, quello applicato, così mi levano il greco, mi tolgono qua. Cioè, tutti così, perché cerchiamo tutti quanti di scappare da quelle lingue lì. E invece sappiamo poi che nella vita mai ci servirà a parlare latino o greco, ma molti riescono, grazie al fatto di sapere, aver studiato latino o greco, a fare dei collegamenti, a capire meglio alcune situazioni, alcune parole, che poi servono nella propria vita invece quotidiana e soprattutto lavorativa. Questa cosa qui si capisce troppo tardi, infatti, come dire, devo fare anche un mea colpa personale. Sta di fatto che, appunto, queste lingue vanno un po' studiate, soprattutto se si vuole fare un certo percorso accademico poi, e di studi. Come fare però? E sono una cosa, diciamolo, sono odiosa. Io non so se... Viola, il mio producer, Viola, tu hai studiato latino? No, non ho studiato latino. Alle superiori, solo due anni alle superiori hai fatto latino, va bene, ok. Va bene, e... Scusate, scusate. Ok, scusate, ho toccato il microfono e si è rastaccato il cavo. Dicevo, allora, e c'è un modo. Questo professore del Tito Livio ha trovato il modo di farlo. L'ultima fatica si chiama Taedium. Taedium, taedium, c'è scritto taedium, credo che si chiama tedium. Che vedete, se sai il latino, cos'è il tedium? È tedio, tedioso, tedia, la noia. E infatti è la versione latina di La Noia, il brano che ha portato Angelina Mango. Ma i ragazzi stanno già lavorando sul prossimo, che è Casa Mia di Gali. E l'impressione è che non si fermeranno solo le canzoni di Sanremo. L'idea di tradurre in latino i testi di alcuni brani in gara al Festival di Sanremo, all'Iceo Classico di Tito Livio, è venuto in classe quasi per caso, così, in una chiacchiera. Ci siamo trovati a parlare dei loro cantanti preferiti e abbiamo deciso di provare a tradurre alcuni testi in maniera laboratoriale. Racconta appunto Daniele Michienzi, che è un insegnante di latino e italiano e latino, che si è proprio anche stupito dell'interesse mostrato degli studenti. Pensate che la sera stessa hanno iniziato a inviarmi le traduzioni, così dice il professore. Beh, è bello, finalmente qualcosa di interessante, qualcosa che avvicini i ragazzi allo studio, ma soprattutto anche che avvicini gli studenti e i professori, che spesso e ventieri sono troppo su due fronti diversi, e invece è importante che rimangano lì, nello stesso fronte, a lottare a volte insieme, ma soprattutto a lavorare insieme per cercare di fare quegli anni lì, quelli che sono poi quelli, no? Beh, i migliori anni della nostra vita qualcuno cantava. Ecco, beh, allora cerchiamo di farli veramente bene. Nell'arco poi di qualche giorno sono arrivate anche altre traduzioni, tipo la Confince, che è la versione latina di Finiscimi di San Giovanni, Fragiles, che è la traduzione del Il Tre, poi Quidam Puer, Quidam Puella, che è la traduzione di un ragazzo e una ragazza di The Colors, si è capito che non ho fatto latino, vero? Questo si è capito perché non lo so, non so latino, non so dire niente, quindi si capisce bene che io e il latino non facciamo la stessa cosa. Va bene, va bene. Comunque, tra quelle che sono state tradotte, come vi dicevo, c'è la vittoriosa Angelina Mango con La Noia, che adesso andiamo subito ad ascoltarci. I Maneskin, che emozioni! Come state? 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5 Buongiorno ancora a tutti e a tutti e grazie dei Whatsapp che stanno arrivando, grazie ad Alberto che scrive Buongiorno Fabio, buongiorno Cristallini e buon giovedì, oggi mezzi pubblici meno affollati, è vero perché le scuole sono chiuse per il carnevale, ma la mia giornata inizia già in salita. Alberto, speriamo di essere allora la tua discesa, cerchiamo di essere la tua sciolina per riuscire a scivolare meglio sulle montagne russe della nostra giornata. Mamma mia, che poeta, hai visto? Potevo fare anch'io il latino al titolivio e tradurre... Facciamo una cosa, la traduzione di tutto Good Morning Milano di Fabio Ranfi in latino, eh? Abemus Notitiam, non so com'è che funziona. Comunque, invece, sembra di tornare ai tempi dei latini, così si potrebbe dire, leggendo il report di Lega Ambiente su Trenord e le condizioni dei pendolari. Pensate, appunto, leggiamo da Milano Today, il rapporto pendolaria di Lega Ambiente dice che Trenord, che tormento per i pendolari, 21 linee sotto gli standard e le cose stanno peggiorando. Non male, pensando che poi dopo è stato anche rinnovato l'appalto con anche un rialzo della quota in est e a Trenord della regione. Ma comunque, quali sono le linee peggiori? Allora, c'è tutto un discorso da fare sull'indice, si chiama indice di affidabilità, che non dovrebbe essere superiore al 3 e sicuramente non superiore al 5. Diciamo che quando si è tra il 3 e il 5, a seconda appunto della direttrice, si traduce in un boccone molto amaro per i propri lavoratori, per i propri viaggiatori, scusate, che vorrebbero ovviamente viaggiare in maniera più confortevole. Sta di fatto che ci sono alcune linee in Lombardia, come ad esempio la Alessandria Mortara Milano, dove l'indice di affidabilità, non vi ricordate che vi ho detto che deve essere tra 3, cioè tra 3 e 5 è già male. Bene, su questa linea, l'Alessandria Mortara Milano, l'indice di affidabilità è di 8,6. Cosa posso dire? Cosa posso aggiungere? Non lo so, ma di fatto che è quello. E pensate, non è che si vada bene, Bergamo, Carnate, Milano, indice 8,2. Perfetto, cioè se la fate a piedi è meglio. Prendete un calesse, prendete un calesse, cantate la noia, com'è che era il tedium, com'è che era il tedium, no, il tedium, qualcosa del genere, in latino, vi mettete a cantare Angina Manco in latino e ve la fate con il calesse tirato dai ciucci, che forse fate prima. Questa è la situazione, ma comunque ci sono anche altre linee, perché pensate che i dolori della linea che da Alessandria raggiunge Milano, passando per le popolose città di Vigievo, in ambiente grasso, sono ben note da decenni. La linea infatti continua ad essere parzialmente a singolo binario, com'era in gran parte nel diciannovesimo secolo. Capite che a un certo punto c'è uno che dice quanti siete, dove andate, un fiorino, fa così, non lo ricordate, non ci resta che piangere. Ecco, mi viene da dire veramente che non ci resta che piangere in una situazione del genere. Senza fare tanti confronti con, lo sapete, spesso volentieri tiro fuori il Giappone, tiro fuori la mia esperienza coi trenini in Giappone che è stata qualcosa di stupefacente, ma senza tirare in ballo la Svizzera, senza tirare in ballo niente, io tiro in ballo solo il fatto che uno non può uscire di casa e viaggiare come fosse il diciannovesimo secolo e come se veramente a un certo punto ci fossero i dazzi doganali, come se da un Ducato passiamo a un altro Ducato. No, così non ci stiamo. Sinceramente, Annalisa, 7 e 40 minuti, Crystal Radio 331-78-53-555, grazie a tutti ancora per i Whatsapp che ci avete mandato e grazie per condividere con noi la vostra giornata. Giornata appunto che dicevamo essere un po' meno faticosa dal punto di vista dei mezzi pubblici a Milano in quanto le scuole sono chiuse, stavo dicendo le chiuse sono scuole, invece no, le scuole sono chiuse e sono diventato un jedi, un jedi, un jedi, non un jedi, un jedi. Vabbè, stamattina è complicata e ve lo dico. Ah, si è complicata. Comunque, mezzi pubblici appunto meno affollati, scuole chiuse per il Carnevale e su Repubblica Milano dopo che abbiamo parlato appunto della M4 che arriverà fino a San Cristoforo e quindi avrà la sua linea finalmente entro l'autunno completata, quindi da Linate fino a San Cristoforo attraverso la città e finalmente grande festa alla corte di sala, come si dice in questi casi, ci sono altri altri cantieri in ballo. Allora, il primo che scrive Repubblica, vabbè, io lo sento dal 74 più o meno quindi mi fa un po' ridere. M1 fino a Baggio M1 fino a Baggio Allora, la M1 fino a Baggio non sto scherzando la 74 non era un anno a caso i miei genitori comprarono casa nel 1975 in quelle di Villaggio Cavour che è una frazioncina di Settivo Milanese al confine con Baggio quando i costruttori stavano facendo la casa guardarono i miei genitori Giovincelli e gli dissero signori, fra pochi anni qui arriva la metropolitana eh sì, arriva la metropolitana rossa fra pochi anni tenetevi pronti metropolitana rossa che all'epoca aveva il suo capolinea a inganni adesso è stato spostato a Bisceglie ma comunque M1 lì ancora non si vede e dai progetti e tutto non passerà mai da Villaggio Cavour comunque volevo dirlo ai cari costruttori che nel 1974 dissero questa cosa ai miei genitori ma ci sono altri altri cantieri importanti ad esempio ne abbiamo parlato la metrotran via 7 quella che taglierà da Cascina Gobba passerà dalla Boviste taglia tutta la parte nord della città ma poi anche la corsia preferenziale della 90-91 tra cui il famosissimo tratto di preferenziale che non esiste in Piazza Stuparic per intenderci da Piazza Relotto a Piazza Stuparic che poi dopo lì bisogna capire anche come fanno a tornare sui lati perché lì per forza devono poi tornare sui lati ma perché in tutto questo c'è la famosa ristrutturazione di Piazza Relotto che dovrebbe essere compresa del prezzo dovrebbe essere ma non si sa nulla tra parentesi notizie di qualche giorno fa l'abbiamo anche già detto ma così lo ripeto per i più distratti o per chi magari si fosse collegato solo in questo momento qui su Crystal Radio con me e Fabio Ranfi qui a Good Morning Milano per chi si fosse collegato solo adesso anche il cantiere di Piazzale Loreto altra parte della città rispetto a Piazza Relotto è completamente in ritardo o meglio non è ancora partito nulla e lì c'è da rivedere tutto quanto perché non è ancora partito nulla perché non si sa come gestire il traffico questa è la verità cioè non si è fatto uno studio ancora approfondito su come gestire quella grandissima mole di traffico che tutti i sacrosanti giorni si riversa in quel piazzale appunto che è il piazzale Loreto il progetto è bello sì c'è una sopraelevata c'è sopraelevata della sopravlevazione scusate della piazza ci sono delle ingressi a raso che entreranno poi con una rampa dentro nella metropolitana nelle stazioni metropolitane della rossa e della verde sotto il piazzale c'è tutto del gran verde che sembra di stare in Amazzonia guardando i rendering sta di fatto che al momento siamo ancora fermi al palo e questo è quello che succede spesso nella City of Render così che la chiamo io Milano sapete no quanti render abbiamo visto in questi anni eh miei carissimi milanesi quanti quanti ne abbiamo visti eh sì il cielo è sempre più blu così cantava Rino Gaetano ma insomma lo sappiamo non è così facile gestire i cantieri le situazioni della città ed è per questo appunto che ho voluto così ironicamente pensare che con tutto quello che succede comunque il cielo è sempre più blu ma soprattutto a volte in realtà sono solo canzonette Edoardo Bennato sono solo canzonette 7.51 siamo quasi per andare in pausa poi sapete dopo di noi il giornale radio e nella seconda parte gli ospiti di giornata è giovedì parleremo ovviamente di teatro con Tamara Malleo che sorpresa le sorprese non sarà in collegamento ma sarà con noi qui in studio di persona ad persona ma non lo so non lo so di persona ma si sarà di persona ma sarà non lo so sapete che oggi uso il latino visto questa notizia del Tito Livio che si è messo a tradurre le canzoni di Sanremo in latino allora oggi traduco tutto in latino Abemus Tamaram sarà così qualcosa del genere comunque adesso si fa in pausa ve l'ho detto andiamo in pausa il pezzo che arriva adesso ve lo cantate sicuramente tutti quanti perché lo sapete tutti quanti a memoria torniamo qui dopo il giornale radio con Tamara Malleo e Chico Dossi collegato con noi che parlerà del suo spettacolo che c'è all'alteatro della cooperativa nell'occhio del labirinto e adesso Claudio Baglioni avrai Backstreet Boys As Long As You Love Me 8.07 inizia la seconda parte di trasmissione inizia una seconda parte quella del giovedì dove di solito parliamo di teatro in collegamento con Tamara Malleo ma rullo di tamburi e Tamara Malleo è qui con noi buongiorno Tamara buongiorno grazie per questa accoglienza ti ringrazio Fabio buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Crystal Radio e Good Morning Milano ebbene sì è qui la posso guardate posso anche toccarla è vera è vera è viva non è un ologramma è bello averti qui grazie e insieme a te arrivano comunque anche i tuoi consigli insieme a che oggi comunque ci racconterai un po' che cosa potremmo fare questa settimana ricchissima ricchissima sì sì questi giorni anzi sono ricchissimi ah sì con cosa guarda partiamo sempre con uno spettacolo che è sempre molto leggero risate risate sì sì molte risate allora io parto con un consiglio molto sentito perché è una compagnia che io conosco da tanti anni che è compagnia Ortica di Alice Conti è una compagnia che porta avanti diciamo così temi molto legati al sociale alla condizione femminile perché ha a che fare col quartiere dell'Ortica no ah no stasera saranno in scena a Dergano a Dergano che ogni volta con gli accenti a Dergano in uno spazio che si chiama me lo sono segnato Scamamu che è uno spazio che è una specie di libreria uno spazio giochi per bambini che ha deciso di fare tre spettacoli in questa settimana quindi di aprire lo spazio anche in serata e questo spettacolo si chiama Italia 90 ed è uno spettacolo con Livia Bonetti che è un'attrice bravissima Monica Bonomi e Lucia Di Monta e sono tre donne che raccontano la storia d'Italia diciamo così dell'Italia degli anni 90 attraverso la storia di una figlia anzi di una nipote di una figlia di una nonna quindi tre generazioni a confronto tre generazioni che parlano tra loro un linguaggio diverso perché chiaramente fanno parte di un'età diversa e tutte e tre si confrontano non soltanto in relazioni familiari ma anche in relazione alla loro condizione di donna in quel momento storico e quindi devo dire che secondo me è molto interessante peraltro appunto Alice Conti da tantissimi anni porta avanti un lavoro sul femminile al di là degli stereotipi quindi secondo me è un bellissimo una bellissima occasione per vedere questo spettacolo per conoscere questa compagnia che vi ricordo è la compagnia Ortica e per poter appunto vedere anche questo spazio ad Ergano che è comunque un quartiere in via di sviluppo e di diciamo così molto anche ricco di situazioni culturali alternative è uno di quei posti da tenere sott'occhio perché potrebbe essere una grande rivelazione nei prossimi anni interessante il tema perché comunque quello del confronto intergenerazionale tra donne ma non solo è molto importante anche alla luce di quello che è successo in questi giorni nel mondo della musica Sanremo canzoni che non riusciamo a capire comprendere ma si parla anche appunto di questa mancata capacità di comunicare che non è dettata soltanto da una diversa da un diverso linguaggio e quindi da una diversa utilizzo delle parole che sono sempre molto importanti lo ricordiamo ma anche proprio di come ci si rapporta col proprio tempo e quindi in questo spettacolo per esempio la nonna non comprende le scelte della figlia o non comprende ancora di più le scelte della nipote mentre in qualche modo la nipote cerca di aprirsi a quelle che sono diciamo così i dubbi delle altre due generazioni quindi c'è un momento di scontro confronto poi ricordo sempre a tutti che io insomma correvo per caso urlando è qui la festa è qui la festa cioè non è che mia mamma proprio capisse perfettamente cosa cavolo urlasse insomma e infatti abbiamo avuto difficoltà a capirlo ma non non perché cantassi napoletano perché proprio è un mondo magari a chi un po' più grandicello fa fatica a comprendere è quello di Jolye Marefuori e tutto quel mondo che davvero i ragazzini io ve lo dico sono stato a vedere Marefuori il musical l'altra sera io se avessi avuto 16 anni sarei stato in piedi urlante come un pazzo anch'io perché ti tira in mezzo quella roba lì c'è qualcosa da fare però secondo me però adesso non voglio aprire una parentesi troppo ampia su Marefuori diciamo che la scrittura della fiction di Marefuori secondo me doveva essere un po' più attenta sulle tematiche proprio come tipo di linguaggio ah vedi forse nel musical ce l'hanno fatta ti dico io non ho visto la cosa però nel musical devo dire che c'è tematiche che sono toccate in maniera interessante forse il teatro aiuta anche aiuta molto di più e c'è un'attenzione maggiore e forse poi appunto Alessandro Siani che noi conosciamo come comico e basta forse appunto quella vena proprio sensibile in fondo in fondo c'è l'abbiamo nominato comunque abbiamo parlato di Jolye allora andiamo ad ascoltarcelo Ipme Tupet così almeno più o meno cioè più o meno fa così Jolye 8 e 12 minuti Cristal Radio Ipme Tupet prima o poi imparerò a dirlo Tami non lo so io no non ce la posso fare devo imparare no no proprio non riesco a articolare ma è un problema mio con tutte le lingue in generale ah ok non è il idioma no 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 è proprio cioè le lingue ho capito va bene allora si è collegato con noi l'abbiamo detto prima della pausa che sarebbe arrivato ed eccolo qui Chico Dossi buongiorno Chico buongiorno buongiorno a tutti e a tutte allora per chi non lo conoscesse Chico Dossi è un autore un regista teatrale autore giusto Chico di nell'occhio del labirinto che è in scena in questi giorni all'elfo Buccini giusto? esattamente e che cos'è questo occhio del labirinto come ci finiamo nell'occhio del labirinto cosa ci troviamo dentro? nell'occhio del labirinto innanzitutto è un monologo sul caso Tortora che le persone che erano già adulte quando tutto questo è successo si parla degli anni 80 ricordano bene le persone della mia età io sono del 94 e seguenti non lo ricordano assolutamente Tortora era un conduttore televisivo l'equivalente odierno sarebbe Amadeus a livello di popolarità e di visibilità e Tortora da un giorno all'altro è stato arrestato nel cuore della notte a Roma per capi di imputazione gravissimi cioè spaccio di droga e associazione camorristica lui si rivelerà assolutamente strano ai fatti anzi si rivelerà i fatti si riveleranno addirittura a non sussistere perché Tortora era totalmente innocente al tempo era stata promossa una legge sul pentitismo che permetteva ai pentiti di mafia di ottenere notevoli sconti di pena se avessero fatto dei nomi importanti questi pentiti si sono accordati per fare il nome sensazionalistico la stampa è andata dietro a questo pettegolezzo ed è stata rovinata la vita a una persona innocente come mai tu sei del 94 com'è che ti sei appassionato ad una storia che molti direbbero io so già che se chiedo di là in regia sono bravissime ma sono molto giovani e mi rispondono boh che le storie non c'ero mi dicono così com'è che tu invece ti sei appassionato a questa storia allora io ho incontrato questa storia in maniera molto casuale vicino all'università in cui studiavo c'era largo Enzo Tortore e quindi a furia di passare ho deciso poi di informarmi prima su wikipedia e poi leggendo dei saggi penso che raccontare questa storia che a mio modo di vedere è anche stata raccontata molto molto poco sia un modo di provare a legare quello che per me è già storia perché comunque è un passato molto prossimo ma effettivamente è già storia all'attualità se ci pensiamo oggi il problema della giustizia è un problema ancora molto presente in Italia la battaglia di Tortora non è ancora stata combattuta a pieno per cui va sicuramente una storia che va ricordata una storia da raccontare anche perché nel momento in cui ci troveremo a dover avere nel dibattito pubblico veramente delle questioni di giustizia potremmo poi essere più liberi e più informati di effettivamente di decidere se la condizione carceraria ci va bene così oppure c'è qualcosa che non va se la condizione dei tribunali ci va bene così oppure non è tollerabile che un innocente finisca in carcere per un pettegolezzo giudiziario sto dicendo ecco volevo dare la parola a Tamara ma a Leo io ho visto lo spettacolo e mi aveva colpito una cosa in maniera fortissima Simone Tudda che l'interprete in scena e che appunto porta in scena la figura di Tortora c'è un passaggio che appunto a me ha dato un grande anche un grande riferimento all'oggi cioè l'idea che Tortora era diventato era riuscito a dare in qualche modo un po' un po' di luce a un tema molto complesso e molto difficile che chiaramente non voleva essere toccato diciamo così dall'opinione pubblica pensiamo a quante persone invece devono affrontare una situazione del genere e non hanno un nome quindi la luce su di loro si spegne immediatamente non possono in qualche modo arrivare a raccontare la propria storia e il loro percorso è ancora più difficile allora volevo chiedere a Chico Dossi quanto appunto il tema della giustizia oggi secondo me è molto attuale ma in realtà ma in realtà non viene raccontato nel diciamo nei dibattiti tra i visivi in maniera concreta in maniera diciamo così propositiva viene spesso strumentalizzato dall'uno dall'altra parte politica siccome Chico Dossi collabora appunto anche col teatro della cooperativa quanto secondo lui il teatro può portare in luce un tema così forte così importante partendo da una figura come quella di Enzo Tortora sicuramente tanto a mio modo di vedere perché forse il teatro anche rispetto ad altri media dal vivo è più luogo della riflessione per cui si può impostare anche un un diciamo un'indagine un po' più raffinato comunque un po' più anche di approfondimento esatto di approfondimento dal momento che effettivamente la questione carceraria intanto non interessa molti perché spesso pensiamo che non capiterà a noi esatto non ci riguarda dobbiamo anche stendergli dei ponti d'oro dopo che questa persona ha commesso un reato e quindi dobbiamo venire l'incontro in realtà è evidente che la questione carceraria sia una delle prime questioni in una società democratica e che non vuole punire i propri cittadini ma li vuole rieducare e infatti è evidente come il ad esempio il tasso di recidività salga vertiginosamente nei paesi in cui non c'è un rientro nella società e questo è anche quello per cui ha combattuto Tortora non solo per garantire che un innocente non finisca in carcere o se ci finisca per un errore giudiziario sia tutto risolto nel giro di poco tempo ma anche perché le persone effettivamente colpevoli non possono stare in situazioni carcerarie tremende non possono ritrovarsi è nostro dovere in quanto società a farsi che queste persone una volta uscite non ritornino alla vita precedente alla vita che li ha portati in carcere ma che trova in un modo di reintegrarsi nella società e diventare membri funzionali di questa società peraltro scusami se ti volevo soltanto dire un'altra cosa velocissima che è facilissimo cioè diciamo nel processo anche mediatico è facilissimo dare la colpa e fare e creare il mostro e poi è difficilissimo invece raccontare quanto invece il processo di giustizia e di innocenza invece non viene raccontato magari c'è un trafiletto piccolissimo o magari non viene neanche raccontato in moltissimi casi quindi è facilissimo puntare il dito è molto difficile invece raccontare poi come sono andate veramente le cose perché poi l'onda mediatica è facilissima in questo caso benissimo allora io Chicco ti chiedo di rimanere qui con noi collegato e Tami tu non scappare dallo studio perché adesso andiamo un attimo in pausa e poi ricominciamo ancora a parlare di teatro perché è fondamentale in una città come Milano non si può raccontare questa città a prescindere da quello che succede nei teatri milanesi che sono davvero fondamentali e poi quando si parla di questi casi insomma sono anche un momento importante di informazione ed educazione che dovrebbe diventare come dice sempre Tamara anche un'abitudine giusto Tami e allora andiamo avanti con un po' di musica adesso sono dei cranberries con Zambi e poi torniamo qui sempre qua su Cristian Radio con Good Morning Milano a fra poco casa mia Gali ciao Gali ricordo sempre che casa tua è qua a Baggio quindi ti ricordo sempre che siamo qua ad aspettarti ed è casa sua anche per Tamara Malleo che è qui con noi in studio e Chico Dossi collegato che questa sera andrà in scena con il suo spettacolo insieme appunto a Simone Tud che interpreta interpreta proprio lui cioè Tortora in scena giusto cioè un po' questo il concetto giusto sì non solo è monologo tra la narrazione e la mia persona perfetto appunto con Nell'occhio del labirinto al teatro del Fupuccini in scena fino al 18 Bami dimmi Tami cosa volevi chiedere no perché appunto io tendo molto a puntare sulla parola e siccome so che Chico Dossi ha lavorato moltissimo su questo spettacolo e lavora in generale molto sulla parola appunto affidando le parole a Simone Tudda quindi a un interprete che ha portato sul palco comunque una grande umanità senza cadere mai troppo nel sentimentalismo ma arrivando proprio a un'umanità vera per cui ci sono anche è un'umanità fatta di contrasti così come l'uomo non c'è soltanto la parte bella che spesso io stesso lo dico che lavoro in televisione la televisione racconta c'è una parte anche fatta di contraddizioni però secondo me Chico Dossi ha lavorato molto bene su un linguaggio che potesse permettere all'uomo di venire fuori e quindi ha un racconto umano ma anche appunto ha una storia più universale che comprende cioè che potesse coinvolgere anche altre situazioni simili a quella di Enzo Tortora allora volevo chiedere a Chico Dossi come ha lavorato sul testo per permettere appunto all'umanità quindi a un uomo che lui non ha conosciuto ma che appunto è arrivato a lui attraverso la curiosità di entrare in contatto con un con un personaggio della storia d'Italia e una storia che appunto è anche molto vicina a noi molto concreta molto che invece in realtà non si conosce e come l'ha consegnata poi a Simone affinché poi sul palco si creasse questa sinergia tra umanità e universalità ti aggiungo un pezzo poi come nasce questo binomio appunto questo duo tra te e Simone questo dopo raccontacelo magari ok procedo per ordine che se non mi dimentico allora innanzitutto la grande trappola a mio parere di un testo come il mio è quello di o scadere nel racconto storico per cui essendo che è basato su una storia vera è una storia vera il grande rischio è di dire eh ma è successo questo quindi lo dobbiamo raccontare in questo modo magari pervendo anche un po' la dimensione teatrale quello che ho voluto fare io è concentrarmi sul personaggio Tortora proprio come se Tortora fosse un personaggio di cinematografico addirittura di finzione quindi ho cercato di capire quale potesse essere il suo arco narrativo infatti credo che uno dei temi del personaggio Tortora sia la ricerca della propria identità Tortora è un personaggio che arriva faticosamente a ottenere la propria identità di conduttore televisivo di personaggio pubblico che intrattiene gli italiani mentre fuori c'è la morte ci sono gli anni di piombo ci sono le stragi di Stato e da un momento all'altro si trova totalmente spogliato di questo ruolo anzi ridotto allo strego di tutte le persone che da qui diciamo lui distoglieva l'attenzione dell'Italia abbiamo ho deciso poi di tenere i punti saldi della vicenda di Tortora in maniera tale da ovviamente rendere il contorno storico culturale politico dell'epoca tenendo però ben saldo il diciamo l'arco narrativo di Tortora ne è venuto fuori un monologo il monologo è scritto in versi liberi se guardate la pagina che si è trovato Simone da studiare ci sono molti capoversi c'è una struttura ritmica molto forte non in rima non non c'è un metro rigido ma ha aiutato Simone almeno per quanto mi ha detto lui poi magari mente scherzi a parte lo ha aiutato a memorizzare a trovare un ritmo a trovare una cadenza a trovare il proprio personaggio di Tortora all'interno di testo tra l'altro io e Simone non ci siamo inizialmente conosciuti di persona anzi siamo stati presentati da un amico che aveva lavorato che un amico mio che aveva lavorato con lui a abecedario per il nuovo mondo che era un podcast del piccolo teatro di Milano Simone ha fatto la scuola del piccolo teatro questo amico in comune mi ha consigliato di provare a vedere se Simone poteva essere interessato a un progetto del genere effettivamente lo è stato è stato un buon consiglio è stato quindi assolutamente ah bene 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 quindi dicevi appunto quello che dobbiamo toglierci dalla testa è quella dell'idea di venire a vedere un documentario su Tortora cioè non è quello non è quella narrazione dove mi dici è successo A, B, C, D e si va avanti così ma quindi una presentazione appunto dicevi del personaggio scusate della persona dell'essere umano quasi anzi molto più profondo oltre il personaggio televisivo dopo aver studiato questo caso e questa storia qualcosa del genere succede ancora può ancora succedere o succede solo come diceva prima Tamara a coloro che non hanno i fari accesi addosso è una situazione molto particolare il mio modo di vedere perché se da una parte abbiamo forse oggi una pluralità di informazione molto maggiore un tempo se il quotidiano autorevole diceva Tortora è un quamorrista ci si credeva anche perché non ci si poteva informare altrove adesso forse da una parte c'è la possibilità di informarsi dall'altra l'agonia mediatica è molto molto più stringente molto molto più forte e quindi è anche difficile di strecarsi ad oggi non so se sarebbe possibile un altro caso Tortora sicuramente forse non con queste stesse modalità però come diceva Tamara è molto possibile che una persona venga ingiustamente accusata che l'opinione pubblica si faccia un'idea sbagliata e anzi basata su calunnie su questo personaggio e poi il diciamo il 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 lo lo scagionamento di questo personaggio avrebbe poi se se potesse avvenire su un trafiletto in quinta pagina la reputazione sarebbe assolutamente ricordo male nel caso Tortora appunto lui viene tradotto delle patrie galere come si dice in questi casi c'è un processo poi alla fine del processo comunque lui riesce scagionato alla fine giusto no quindi diciamo che la giustizia molto male ma il suo decorso lo fa e lo fa con un finale buono diciamo più o meno giusto ecco adesso forse mi viene da dire i tribunali sono stati anche esautorati da questo loro compito perché ci pensa direttamente l'opinione pubblica esatto e poi secondo me come diceva Chicco a quel tempo i grandi giornali erano la fonte di informazione adesso tutti diciamo così c'è una un'informazione molto molto più diciamo così dilatata poi c'è il web che fa insomma fa il suo e quindi è davvero molto più difficile diciamo così togliere quella macchia ed è anche molto più facile additare subito al mostro che è anche per la nostra diciamo così per la nostra diciamo per il nostro modo oggi sì per il nostro modo oggi è molto più facile dire quello è il mostro allontanando da sé qualsiasi forma di diciamo così di oscurità e quindi è più facile dare subito la macchia di mostro e è molto più difficile poi invece capire effettivamente come sono andate le cose eccetera quindi Chico se fammi capire questo se non ne so niente del caso Tortora quanto posso apprezzare il tuo spettacolo invece sono uno che ne sa tanto perché devo venire a vedere il tuo spettacolo allora diciamo che anche per persone che non sanno nulla anzi il target sono proprio le persone della mia età comunque persone che non c'erano e che quindi possono arrivare possono entrare in teatro e scoprire il caso Tortora quindi è possibile apprezzarlo non conoscendo nulla ovviamente poi se la storia interessa ci sono un sacco di materiale addirittura il post indagini hanno fatto una puntata apposta sul caso Tortora che è molto più esaustivo ovviamente al mio spettacolo ma perché ha finalità diverse chi se lo ricorda bene diciamo forse ha anche un un impatto emotivo maggiore perché è la è la propria gioventù fondamentalmente quindi in entrambi i casi credo che possa essere un'esperienza interessante posso dire solo un'ultima cosa siccome in questi giorni si parla molto di atti politici secondo me il teatro è un atto politico e questo spettacolo è un atto politico cioè ci si occupa e ci si interessa della cosa comune che è il nostro vivere che è la nostra storia in questo caso Chico Dossi e Simone Tudda hanno fatto tutto un lavoro sulla memoria e sulla storia e fare teatro significa impegnarsi politicamente nel termine più diciamo così più originario possibile nel senso che ci si occupa di quello che ci riguarda e quello che ci riguarda è la nostra società e non aprire gli occhi e non guardare significa fermarsi e non voler far nulla Chico Dossi con il suo teatro fa teatro politico scusami se l'ho detto ma adesso oggi come oggi non credo che adesso Chico leggerà un comunicato dove il teatro Elfo Bucini si discosta dalle sue non credo proprio quindi anzi ben vengono questi momenti anzi Chico ricordiamoci ricordaceli tu anzi proprio le coordinate e i tempi giusti per seguire la vostra nell'occhio siamo in scena fino al 18 di febbraio al teatro Elfo Bucini Corso Buenos Aires 33 a Milano il 19 alle ore 21 saremo al Cinema Metropolis di Paderno Dugnano e poi per adesso ci fermiamo un attimo riprenderemo poi con altre date a marzo-aprile e poi l'anno prossimo se seguite cercate Chico Dossi su Google e Company così almeno potete seguire tutto quello che sarà per seguire lo spettacolo dell'occhio del labirinto che appunto ricordiamo in scena fino al 18 di febbraio qui al teatro Elfo Bucini e poi appunto seguite anche per le altre date grazie Chico grazie a voi buona giornata buon lavoro quindi anche stasera siete in scena quindi buon lavoro anzi sicuramente ci vediamo a teatro ci vediamo a teatro non volevo dire tanta merda direttamente così cioè volevo funziona ancora funziona ancora non è che adesso mi arriva il comunicato del crystal radio che si discosta dal fatto che non posso dire tanta merda uno che fa no non credo Chico grazie mille ciao grazie a voi buona giornata tutta varia non scappare che c'è ancora dei consigli da darci siamo qua adesso ricchi e poveri ma non tutta la vita ma non tutta la vita ricchi e poveri invece io ti vorrei qui tutta la vita con me Tamara perché davvero ma no noi dovremmo andare tutta la vita a teatro ma poi non possiamo parlare durante lo spettacolo e dopo si parla prima si parla dopo allora sì sì va benissimo ah guarda a proposito di c'è uno spettacolo in cui si può parlare sarebbe interessante c'è uno spettacolo che in realtà scusami c'è un'esperienza da fare che è il menù della poesia di cui ti ho già parlato che vabbè vede al suo interno interpreti incredibili tra cui Valeria Perdonò Ilaria Longo insomma ce ne sono tanti Vincenzo Zampa e tutti i mercoledì da qua a giugno anzi scusate un mercoledì al mese da qua a giugno ci sarà la serata del menù della poesia potete andare al bistro Olinda al teatro dei Fopuccini dove potrete cenare insieme al menù della poesia hai capito quindi cenerete quindi il cibo ma anche il cibo per l'anima che sono le poesie bene 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 ok se non avete capito cioè volete invitare a fare a cena Tamara sapete dove portarla questo o voi che andrete a cena con qualcuno il sottotesto o con qualcuna sottotesto era quello se volete invitarmi a fare a cena avete capito sapete già cosa fare ecco benissimo abbiamo ancora qualche minuto pochi ma secondo me giusti per darci qualche altro consiglio teatrale della settimana imperdibile al teatro Grassi quindi metropolitana rossa fermata a Cordusio Giuliana Musso Giuliana Musso fa teatro civile lei non ama questa dicitura ma in realtà fa teatro civile in questo caso si parla di incesto con questo spettacolo che è dentro ed è uno spettacolo dove si racconta una storia vera di una famiglia che deve attraversare questo dramma in una consapevolezza difficilissima da toccare e Giuliana Musso lavora moltissimo sul senso delle parole perché avere paura delle parole ci porta ad avere paura e avere paura non ci permette di guardare la realtà e non potendo guardare la realtà accadono cose davvero feroci per noi e per gli altri quindi per quello che ci riguarda perché tutto quello che accade a teatro è qualcosa che ci riguarda e se pensiamo che non sia così abbiamo un problema wow ecco quindi prima cosa se la portate a fuori a cena state attenti ai problemi che ci avete perché viaggiano però insomma poi sì posso dire è giusto così c'è una selezionale c'è una selezionale ingresso non è che chiunque può portare sia fuori a cena la Tamara cioè giustamente c'è peraltro non mi portano fuori a cena andiamo fuori a cena ecco bravo vedi perché le parole sono importanti mi sono già giocato la cena porca miseria le parole sono importanti giusto 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 anzi io vi dico una cosa andateci che semmai ne uscite educati quello sicuramente ne uscite imparati ne uscite un po' da una cena con Tamara no sono io che durante le cene mi piace sempre molto lo scambio scambio così che educa che frutta ne uscite arricchiti non solo nella panza ma anche nell'anima quindi vi ricordo Giuliana Musso Giuliana Musso benissimo Giuliana Musso Tami hai solo un minuto se vuoi dircele uno veloce ancora velocissimo Chiara Meglio che è una danzatrice incredibile la prossima settimana Chiara Meglio Chiara Meglio al teatro Elfo Puccini porta Caligola Sparti quindi si parte da Caligola e si arriva è una danzatrice incredibile che però porta una drammaturgia ballata è meraviglioso quindi vi consiglio la prossima settimana al teatro Elfo Puccini e quelli che dicono eh ma il balletto è un po' no no qua la danza parla ah ok quindi non è il balletto non è quella roba lì che vi aspettate no la danza secondo me è un territorio da riscoprire siamo molto presi da dei luoghi comuni sulla danza e in realtà la danza parla molto che poi quando vi siete lì seduti su davanti alla tv che vi guardate amici vi siete lì che impazzite per i ballerini io non capisco impazzite per i ballerini e poi andiamo a vedere andiamo a vedere no no Dupale ma scusa lì hai appena visto Clé di Ambetta questi sono quelli che hanno fatto la prima edizione forse sono un po' non particolarmente i nipoti di Clé di Ambetta ci sono mi sa Tamara siamo arrivati alla fine dobbiamo salutarci grazie esperienza bellissima voglio salutare tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici Fabio ma anche Viola una producer molto promettente giovane ma promettente è lì che hai salzato da quella contenta salutiamo anche Maria in regia poi visto che sono già arrivate anche le altre ragazze della redazione mi piace perché perché ti circondi di donne sono le uniche che sa fare qualcosa nel mondo mi piace vorrei dire io sono qua a sproloquiare due da mattina io sono per la connessione tra uomo e donna però le donne ti portano contenuto contenuto sicuramente grazie ne ho la prova ogni mattina al di là del vetro ci vediamo a teatro ci vediamo a teatro ma ci vediamo anche dove ricordaci 8 e 54 minuti giovedì 15 febbraio ed è una giornata per alcuni festival alcuni no abbiamo scoperto che alcune scuole non sono chiuse quindi se siete a scuola ci spiace per voi che poi se siete a scuola se siete ascoltando noi c'è un problema comunque vorrei dire adesso va bene tutto che vi do consigli per ascoltarci di sgamo dal capo del computer iconizzate il sito fate fitte di essere in collo invece ascoltate noi ma se siete a scuola magari no dopo di noi Ambrogio Curti con Senti Questa a giornale radio e poi c'è lui Ambrogio che ci racconta un po' la musica nazionale e internazionale con la sua bellissima voce ma soprattutto con la sua bravura per andare a scovare sempre di più all'interno delle sette notte musicali le storie più importanti della musica mondiale e l'organo Hammond di The Flying Family Stone ci ricorda che comunque noi ci ritroviamo qui anche domani mattina e lo facciamo tutta la settimana dal lunedì al venerdì sempre qui su Crystal Radio e le voci che avete sentito questa mattina sono state quelle di Tamara Malleo e Chico Dossi e poi la mia qua di Fabio Ranfi coaduivata dalla bravissima Viola Improducer Maria La Regia e tutte le altre ragazze della redazione Francesca e Social grazie mille ci sentiamo domani mattina ciao